Al Teatro Ienco tanti spettatori per lo spettacolo Amleto è stato ucciso alla Mobile E-Hall di Andrea Moretti, tratto dal libro bianco che racconta della tragica scomparsa del giovane viareggino Matteo Valenti. Una morte sul lavoro assurta a simbolo del bisogno di informazione e sicurezza. Sul palco giovanissimi attori che hanno fatto rivivere i drammatici fatti e un messaggio forte di giustizia. Prima dello spettacolo anche un ricordo delle vittime del 29 giugno e un intervento dei familiari di alcuni dei sette operai morti nel rogo della Tissen Group di Torino, arrivati per portare la loro testimonianza, intervistati dal direttore del periodico Sicurezza e Lavoro. Questa tragedia nella sua drammaticità è servita a risvegliare le coscienze collettive, ha ricordato all'Italia intera che gli operai esistono ancora, lavorano e muoiono nelle fabbriche talvolta. Lo spettacolo e il racconto della vicenda di Matteo hanno toccato profondamente le madri dei giovani scomparsi. Sarei contenta che tanta gente vedesse queste scene per capire realmente quello che passano le famiglie. Dobbiamo farlo vedere a tutta Italia, dappertutto, perché è veramente stato commovente. Abbiamo rivissuto, specialmente io, che mio figlio era nella stessa stanza di Matteo, e quindi mi sembravo di essere io in questo momento che ho sentito tutto. Il dolore e il ricordo, spiegano, si accompagnerà sempre alla denuncia dei padroni che non tutelano la vita dei propri dipendenti. La loro coscienza gli brucia a dire che potevano fare qualcosa per evitare l'incidente, a fare morire ragazzi così giovani che avevano una vita davanti. A noi familiari ci rimane solo tanta rabbia e pochissime parole, sperando che la giustizia faccia la sua buona strada. Giustizia, giustizia, giustizia.